Questo signore si trova in sala operatoria perché deve subire un delicatissimo intervento chirurgico, per cui si rivolge al chirurgo e gli dice Dottore, io sono molto preoccupato, non ho mai subito un'anestesia. Ma signore, non deve preoccuparsi. L'anestesia è una sciocchezza, è come addormentarsi. Noi gli faremo l'anestesia e lei mi vedrà pian piano allontanarmi da lei e sparire nella nebbia. Dopodiché, quando si risveglierà, mi vedrà pian piano uscire dalla nebbia e riavvicinarmi a lei. Ah, dottore, ma è tutto qui. Ma certo, signore, non si preoccupi. Insomma, gli fanno l'anestesia, gli fanno l'intervento. Sto signore si risveglia e si vede sto dottore tutto vestito bianco davanti a lui, quindi tutto contento, gli dice Dottore, ma è stato fantastico, era proprio come diceva lei. Mi sono addormentato e l'ho vista pian piano allontanarsi e sparire dalla nebbia. Poi mi sono risvegliato e l'ho vista pian piano riavvicinarsi a me e adesso è qui davanti a me. Soltanto, dottore, che c'è sempre sta nebbia intorno a me. Ma che significa? E il dottore, guarda, innanzitutto questa non è la nebbia, ma sono le nuvole. E poi io non sono il dottore, ma sono San Pietro. La bellissima moglie di un sarto, dopo dieci anni di matrimonio, all'età di trent'anni, poverina, rimane vedova. Allora si chiude in casa, si isola in questo lutto terribile per elaborarlo, insomma. Però dopo un anno di segregazione, di chiusura completa, decide finalmente di ritornare alla vita normale. E quindi prende una bella sera e se ne va in discoteca. Allora arriva presso questo locale, balla un po', dopodiché va al bancone del bar a prendersi un drink e gli si avvicina un bellissimo culturista, tutto abbronzato, bellissimo proprio. E un'avanza, un'altra, gli offre da bere, gli fa delle attenzioni carinissime e lei alla fine cede e decide di andare a casa con lui. Quindi arrivano a casa di lui e lui gli offre da bere. A un certo punto inizia a togliersi la camicetta e gli dice ah, guarda che bicipite bella, ma che c'ha da sti bicipite tuo marito? E perché? Sti pettorali? Che c'ha da sti pettorali tuo marito? Non credo proprio. A un certo punto si leva pure i pantaloni e fa ah, guarda che cosce qua, che c'ha da sti cosce tuo marito? Non credo proprio. Allora lei insomma si inizia a rompere un po' le scatole di questa tiritera. A un certo punto lui gli fa guarda che porpaccio, che c'ha sti porpaccio tuo marito? Allora lei, guarda, mio marito non c'hava nessuna di queste cose però in mezz'ora si era trombato a me, a te e ti aveva fatto un vestito su misura. Un carabiniero in divisa entra presso un negozio di elettrodomestici allora chiama il commesso e gli dice chiedo scusa signore, vorrei acquistare quel televisore. E il commesso, guardi signore mi dispiace ma non vendiamo nulla ai carabinieri. Questo carabiniero a testa bassa, prende e se ne va. La volta dopo decide di tornarci in Borghese. Rientra presso questo negozio, chiama il commesso chiedo scusa signore, vorrei acquistare quel televisore. E il commesso, guardi signore mi dispiace ma noi ai carabinieri non vendiamo nulla. Questo carabiniero riabbassa la testa e se ne va. Solo che non si vuole da per vinto. Quindi se traveste da donna, ritorna in questo rivenditore, chiama il commesso. E chiedo scusa signore, vorrei comprare questo televisore. Il commesso, guardi signore mi dispiace ma noi non vendiamo nulla ai carabinieri. E il carabiniero, e che cazzo? Ma mi fa capire come ha fatto a capire che sono carabiniere. Il commesso, guardi è molto semplice. Quello in forno a microonde. Il convento delle suore del Sacro Cuore parte per un viaggio spirituale a Lourdes supervisionato dal padre superiore, donna Alberto. Solo che arrivati presso l'albergo si crea un disguido con le stanze. Tutte le sorelle vengono collocate regolarmente. Avanza un'unica stanza matrimoniale che donna Alberto e suor Carmela, una delle sorelle, sono costretti a condividere. Quindi donna Alberto molto gentilmente concede il letto matrimoniale a suor Carmela e lui si sistema per la notte sul divano. Solo che la notte suor Carmela lo chiama e gli fa Donna Alberto, io sento tanto tanto freddo. E donna Alberto, e che le devo fare suor Carmela? Le do una coperta, suor Carmela. E vabbè, me dia una coperta. Insomma, gli da sta coperta dopo un'altri 20 minuti. Ma donna Alberto, ma io sento ancora tanto freddo. E donna Alberto, e suor Carmela, che cosa posso fare? Le do un'altra coperta, suor Carmela. E vabbè, me dia un'altra coperta dopo un'altra mezz'ora. Ma donna Alberto, io sento tantissimissimissimissimo freddo. Ma perché non viene qua? E donna Alberto si alza dal divano, si avvicina a suor Carmela e gli fa A suor Carmela, ma fammi capire, ma che vuole fare come marito e moglie? E suor Carmela, eh, magari. E donna Alberto, eh, allora se ti è piatata solo a sta cazzo di coperta, va? Un tizio si reca in chiesa per confessarsi. Quindi arriva davanti al sacerdote e gli dice Mi perdoni padre, perché ho peccato. Ho fatto quasi l'amore con una donna. E il sacerdote, prego figliolo, dimmi, spiegati meglio. E sto signore, beh, in realtà non è che gliel'ho proprio messo dentro, però gliel'ho strofinato. E il sacerdote, eh, eh, figliolo, guarda che metterlo dentro o strofinarlo è praticamente la stessa cosa. Quindi tu avrai le stesse penitenze che hanno i peccatori che si uniscono carnalmente ad altre donne. Quindi figliolo, ora tu ti recherai verso il porta offerte, reciterai 20 Ave Maria e metterai 50 euro nel busto. nel buco dell'offerte. Allora questo fa, ammazza padre, economico, eh. Vabbè, insomma, questo va verso il porta offerte, recita ste 20 Ave Marie, poi se tira fuori sti 50 euro, fa finta di metterli nel buco delle offerte e poi si li rimette in tasca. Allora se ne sta andando via verso l'uscita, il prete lo insegue e gli fa ma figliolo, ma che cosa hai fatto? Non l'hai messi i soldi dentro il porta offerte? E questo, ma padre, veramente ce l'ho strofinati, no? Tata ha detto l'estrofinati e mettiti dentro la stessa cosa. Muore l'autista di Papa Francesco, per cui la curia si immobilita con urgenza per un sostituto autista, quindi trovano questo sostituto il quale va a prendere Papa Francesco presso la sua dimora, lo preleva, lo fa salire dietro alla vettura e partono per Piazza San Pietro. Soltanto che il Papa si rende conto che questo è proprio imbranato alla guida. Allora gli dice ma figliolo, ma lei sta sbagliando tutte le strade, ma non arriveremo mai in tempo per la messa con i fedeli. Allora l'autista mi deve scusare la vostra santità, ma io so di genzano, io non ce capisco bene per stevie, non ce ne capisco niente. Allora il Papa gli fa ma è gravissima questa cosa, mi faccia salire subito a me alla guida della vettura. Insomma, sale davanti, il Papa mette l'autista di dietro, dopo 500 metri, posto del blocco dei carabinieri, allora l'appuntato si avvicina, vede un attimo chi c'è alla guida di sta macchina e torna subito alla gazzella, chiama in centrale, comandà, io qua ho fermato un'autorità importantissima, il comandante, si vabbè dai chi hai fermato? Un parlamentare, no comandà, de più, de più, de più, si dai vabbè, chi hai fermato? Il Presidente della Repubblica, no comandà, io giuro, de più, de più, de più, si vabbè, ma hai fermato Gesù Cristo, e l'appuntato, si ma sai che era proprio Gesù Cristo, perché c'era il Papa che gli faceva d'autista. Un signore sta passeggiando in un parco intorno alle sei di sera con il suo cagnolino, quando praticamente vede arrivare frontalmente a lui una donna completamente luda che passeggia, allora se la guarda dice ma vabbè, ma che starà succedere qua? Vabbè, andiamo avanti, continua la sua passeggiata, a un certo punto, un'altra donna nuda, dice ma, ma cavolo, ma che starà succedere a entrare a sto parco? A un certo punto continua a passeggiare, dietro di lui, vede arrivare una donna nuda che gli corre a fianco e va dritta in avanti, porca miseria, ma che, ma qui, ma veramente, ma è pazzesco, allora continua la sua passeggiata, un'altra donna nuda che gli arriva frontalmente, porca miseria, ma, ma qui se sono un pazzidio, a un certo punto vede arrivare davanti a lui due carabinieri e gli dice, ma signori, qua sta succedendo una cosa veramente strana, allora si carabinieri fanno, che sta succedendo signore? Eh, veramente, ho visto ben quattro donne nude passeggiare per questo parco e i carabinieri, sta girar maniaco sessuale, sta mammette di trappole. Due carissimi amici di vecchia data, Alberto e Tonino si incontrano dopo tanti anni, quindi Alberto dice a Tonino, ah, Tonino, ah bello, come stai? Che mi racconti? E Tonino, eh, che te vuoi raccontare? Eh, come sto? Sto da fuori vecchietto, faccio vita regolare, la sera a letto presto, ma perché? Che vuoi fare all'età nostra? E Alberto, ma come che vuoi fare all'età nostra? Io mi diverto, Tonino, altro che, io mi faccio pure la cubana, quindi la sera mi faccio quelle cenette sue, sfiziosi del paese suo, poi mi mette qua la musichetta latinoamericana, si mette a ballare un po' di salsa, e poi la notte, ma la trombo tutta la notte, insomma, e Tonino, ma che davvero stai a dire? Ammazza, complimenti, e poi, e poi, e poi, e poi la mattina mi portavo la colazione a letto, è normale, no? E chiaramente, poi una smanceria, un altro, un bacetto, un altro, e niente, e alla fine, ma ritroppo, pure di mattina, poi comunque sto in pensione, quindi che fai? E il pomeriggio, che ne la fai un'altra botta dopo l'aperitivo, allora l'amico gli fa, ma davvero, stai a dire, oh, ma da quant'è che stai a fare sta vita? E quest'altro, eh, ho chiamato l'agenzia, ieri, domani comincio. Antonio, un signore gobbo, poverino, si trova intorno alle sei di sera presso il cimitero del paese, perché è andato a trovare la sua povera moglie defunta, allora, mentre si incammina in quest'atmosfera tetra tra lapidi, cipressi e nebbia, sente una voce dall'oltretomba che gli fa, Antonio! E lui, ma chi è? Che cos'ha dietro la schiena? E lui, beh, veramente ho una gobba, vuoi che te la tolga? E lui, eh, ma magari! E puff, gli scompare la gobba. Allora, tutto contento, torna a casa, al mattino dopo scende sotto casa, si fa la solita passeggiatina, tutto fiero, tutto eretto, e incontra un suo carissimo amico, Zoppo, un certo Giovanni, il quale gli fa, Antò, ma, che fine ha fatta la gobba? E Antonio, guarda, non me ne parla, Giovanni, ieri stavo al cimitero a trovare mia moglie, ho sentito una voce che mi diceva, vuoi che te torgo la gobba? Vuoi che te torgo la gobba? Gli ho detto di sì, oh, ma torto la gobba! E Giovanni, porca miseria, ma davvero questa è di, oh, ce provo pure io a andare a sto cimitero! Insomma, la sera stessa Giovanni va allo stesso cimitero, alle sei di sera si incammina in questa stradina nebbiosa e tetra, sente una voce che gli fa, Giovanni, ma chi è? Che cos'ha dietro la schiena? E Giovanni, va, veramente niente, ecco, piede sta gobba va! Ci troviamo nel convento delle Orsoline, e la madre superiorea incarica Suor Gertrude di andare a fare la spesa per tutto il convento, quindi gli dice, Suor Gertrude, mi raccomando, sono le otto di mattina, vai a fare la spesa per tutte noi, e ricordati di rientrare puntuale a mezzogiorno per le preghiere e per il pranzo, e Suor Gertrude, certo madre, certo madre, sarà fatto, esce Suor Gertrude, a mezzogiorno, Suor Gertrude ancora non è rientrata, a luna, nessuna notizia di Suor Gertrude, le suore iniziano ad allarmarsi, sono preoccupatissime, luna e mezza, nessuna traccia di Suor Gertrude, alle due si sente sbattere la porta del convento, entra Suor Gertrude, coi vestiti tutti strappati, tutta paonazza, tutta graffiata, disperata, e la madre superiore, ma Suor Gertrude, anime sante, ma che fine hai fatto Suor Gertrude, madre, non me ne parli, guardi, mi sono diretta verso il mercato per fare la spesa per tutte noi, ho preso una vietta, un pochino isolata, e mi hanno preso quattro energumeni neri, e mi hanno violentato per tre giorni, e la madre superiore ha, ma come Suor Gertrude, sei uscita stamattina alle otto, sì, ma ce devo tornare domani e dopo domani. Un signore si trova in gita turistica per l'Italia, con la propria automobile, allora a un certo punto si ritrova presso un paesino che non aveva mai visto, quindi gira a destra, gira a sinistra, percorre tutte le stradine limitrofe, e a un certo punto gli va all'occhio su una fattoria non molto lontana da lui, allora si avvicina con la macchina a questa fattoria, e nota che all'esterno c'è un uomo che sta tagliando la legna, allora apre il finestrino e gli fa, salve buon uomo, se gira questo, salve signore, mi dica, certo che qui c'è proprio un'aria buona, si respira proprio bene, e questo, ma che stiamo a scherzare, qua pensi che teniamo l'aria più buona di tutti gli altri paesi, e lei pensi che qua non si è mai morto nessuno, allora questo gli fa, ma come non è mai morto nessuno, che appena sono entrato in paese ho visto subito un funerale, e questo gli fa, ah, un funerale si è visto, e te credo, era lui becchino, si è morto dai fami. La moglie d'Alvaro è incinta di due gemelli, quindi arriva il giorno del parto, si regano d'urgenza in ospedale, la moglie entra in sala parto, e Alvaro preferisce attendere all'esterno in sala d'attesa, allora esce l'assistente dell'ostetrica, dopo 30 minuti gli dice, signor Alvaro, è nato il primo bambino, è un bambino bellissimo, stupendo, e Alvaro, te credo signor, non c'avevo dubbi, con sta canna fumaria che mi ritrovo, e l'assistente rientra, riesce dopo altri 40 minuti, signor Alvaro, è nato il secondo bambino, è ancora più bello del primo, è stupendo, un bambino meraviglioso, e Alvaro, te credo signor, con sta canna fumaria che mi ritrovo, e l'assistente, eh signor Alvaro, però gli facciate una pulita qua la canna fumaria, perché sono tutte e due neri, è sabato sera, è una coppia, si trova in intimità, in salotto, stanno tutte e due accoccolate sul divano, a un certo punto lui si avvicina piano piano, e le inizia a baciare sul collo, dopodiché inizia a dare tutti i bacetti dietro l'orecchio, e lei si gira e gli fa, amore, il ginecologo ha detto, che per una settimana, niente sesso, e lui, ah ho capito, senti il dentista che dice invece? Suor Carmela e Frato e Giuseppe, vengono incaricati per una missione in Africa, quindi devono attraversare, una lunga distesa di deserto, e quindi vengono messi, in sella o in gobba, ad un cammello, insomma, quindi iniziano questo lungo preclinaggio, soltanto che a metà strada, in mezzo al deserto, il cammello more, allora, i due rimangono in panne, sotto al sole, cercano un po' di ripararsi come possono, e dopo due, tre giorni, a Frato e Giuseppe, iniziano a venire delle idee un po' strane, quindi insomma, si toglie la tunica, e gli fa, Suor Carmela, Suor Carmela, guarda qua, guarda ste braccia, guarda che bei muscoli, questa è una cosa da brivido, allora Suor Carmela gli fa, mamma mia Frato e Giuseppe, ma si copra per cortesia, a Suor Carmela, ma guardi qua, guardi qua, guardi che cosce, guardi che muscoli, e Suor Carmela, ma Frato e Giuseppe, per cortesia si copra, ma questa roba da brivido, Suor Carmela, da retta a me, al certo punto, se toglie pure le mutande, Frato e Giuseppe, allora Suor Carmela, ma Frato e Giuseppe, ma che cos'è quello, e Frato e Giuseppe, eh Suor Carmela, questa è una cosa, che fa risuscitare i morti, e Suor Carmela, ecco, allora metti gli arc a mello, così ci riporta a casa, va, un signore alle otto di mattina, entra in un bar, e con l'aria un po' triste, e sconsolata, gli dice al barista, me facciam campari col gin, per cortesia, al barista, certo signore, glielo preparo subito, gli fa sto campari col gin, questo prende il bicchiere, glu 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 glu, e solo scuola tutto da infiato, subito dopo, guardi, me ne faccia un altro, per favore, al barista, ma certo signore, ci mancherebbe, siamo qui per servirla, gli fa st'altro campari col gin, questo, glu 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 glu, appena finito, guardi, me ne faccia un'altra ancora, per piacere, il barista, ma certo signore, glielo preparo subito, gli fa st'altro campari col gin, quattro campari col gin, cinque campari col gin, arriva a dieci campari col gin, e a un certo punto, il barista gli fa, senta signore, mi scusi, non vorrei entrare, nelle sue questioni private, ma non gli sembrano un po' troppi, dieci campari col gin, alle otto di mattina, e questo gli fa, eh sì, in effetti, poi con quello che c'ho, il barista gli fa, ma che c'ha signore, e c'ho tre euro, e c'ho tre euro,